Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata di Formula 1 Real Talks, la mia rubrica che parla della Formula 1 reale e delle tematiche più interessanti che emergono nella Formula 1 questa oggi puntata relativa al GP del Messico, proprio siamo già ridosso del GP del Brasile, ormai c'è una gara al giorno, faccio anche fatica a starci dietro con i video prima tematica di cui parliamo è, tanto per cambiare, la rubrica contro chi ha vinto il titolo Max Verstappen quest'anno perché ormai da un po' di gare, da un po' di episodi, che faccio notare il livello medio degli avversari che si sono trovati ad affrontare Max Verstappen e la Red Bull in questa stagione per farvi capire quanto è ridicolmente basso il livello della Formula 1 attuale, Red Bull esclusa ovviamente senza nulla togliere, come ho sempre specificato, a Max Verstappen che per me è comunque il miglior pilota di Formula 1 attualmente ed è realmente uno dei migliori piloti della storia della Formula 1, senza nulla togliere a Max però è giusto far notare che quest'anno ha vinto il mondiale contro un branco di scappati di casa così come facevo notare una cosa simile ad esempio nel 2019 soprattutto, ma anche nel 2020 con i mondiali vinti da Hamilton adesso faccio notare bene o male la stessa cosa anche per quanto riguarda Verstappen quest'oggi il mio mirino cade sul buon Sergione Perez perché proprio in occasione di questa gara il buon Sergione Perez è stato ufficialmente doppiato in classifica da Max Verstappen che ha 491 punti contro i 240 del buon messicano e se la matematica non è un'opinione 491 è più del doppio di 240 e adesso non so se è mai successo che un pilota vincesse il mondiale doppiando il secondo non so se è mai successo e onestamente non è importante saperlo perché i sistemi di punteggio sono cambiati tantissimo negli ultimi anni potrebbe essere successo magari negli anni 50-60 non lo so e forse neanche perché all'epoca all'inizio della Formula 1 aveva tipo 9 10 11 gare quindi era molto difficile doppiare il secondo non lo so a memoria mi ricordo mi sembra di ricordare che nel 2001 Schumacher ci andò vicino fece 120 e qualcosa punti 123 tipo contro i 60 e qualcosa 65 tipo di Coulthard ci andò vicino ok ma non è questo il punto perché fino al 2002 compreso era diciamo così più facile tra virgolette doppiare il secondo in classifica perché il sistema di punteggio assegnava punti solamente ai primi 6 classificati dando un enorme vantaggio al vincitore perché il vincitore prendeva 10 punti il secondo classificato ne prendeva 6 quindi già finendo secondo prendevi appena poco più della metà dei punti del primo e addirittura se finivi terzo ne prendevi 4 di punti quindi già se finivi terzo prendevi meno della metà dei punti del vincitore quindi era più facile venire doppiati in classifica adesso invece no, adesso è molto più difficile col sistema di punteggio che c'è attualmente perché 25 punti vengono assegnati al leader, al vincitore al secondo ne vengono assegnati 18 e molto più della metà di 25 cioè tu per prendere meno della metà dei punti del vincitore dovresti finire da quarto in giù il quarto ne prende 12 appena meno della metà quindi questo significa che anche se il leader del campionato vincesse tutte 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 le gare finisse il campionato con punteggio pieno sarebbe comunque difficile doppiare il secondo in classifica perché se c'è un top driver, un altro pilota forte ma era un altro pilota e o un altro team forte quello che arriva secondo in campionato probabilmente arriva anche secondo o terzo in quasi tutte le gare è impossibile che quello che arriva secondo in campionato abbia una media punti che sia inferiore alla metà di quello del vincitore perché ripeto per prendere meno della metà dei punti del vincitore deve arrivare da quarto o peggio questo significa cosa significa? a parte che Verstappen non le ha vinte tutte quindi Verstappen non ha punteggio pieno non ha la media punti massima insomma ma questo significa che tutti i piloti da Perez in giù in campionato hanno come risultato medio un quarto posto è come se fossero finiti tutte le gare fuori dal podio ed è una cosa abbastanza assurda anche perché poi storicamente nelle annate in cui si registrava un dominio negli anni in cui dominava Schumacher Schumacher non doppiava tutti in classifica perché c'era Barrichello con la sua stessa macchina che non era un fermo vinceva delle gare anche lui andava a podio tante volte anche lui faceva delle sue belle pole position anche lui e non si beccava di stacchi biblici da Schumacher così come quando dominava Senna quando dominava Senna c'era Prost c'era un pilota di pari livello in macchina con lui e quindi il fatto che Verstappen abbia doppiato addirittura Perez in campionato questo è proprio emblematico del fatto che non sono solamente degli scappati di casa i team avversari ma hanno scappato di casa anche Perez perché non esiste che tu con il punteggio attuale con il sistema di punteggio attuale non esiste che tu venga doppiato in classifica chiaro può succedere e succede chiaramente nelle zone basse della classifica è ovvio vai a vedere Ulkenberg è quindicesimo in campionato a nove punti Magnussen e diciannovesimo ne ha tre ah Ulkenberg ha triplato Magnussen sì ma quando si ragiona con dei punteggi così bassi con una classifica che quando si parla di un campionato di squadre di piloti che vanno a punti una o due volte all'anno è ovvio che può succedere benissimo che ci siano dei piloti che facciano il triplo il quintuplo il decuplo dei punti degli altri come l'anno scorso Bottas ha fatto otto volte i punti di Guanyuzu ne fece 49 contro 6 una roba del genere è normale ma è molto meno normale che il primo vada a doppiare il secondo e poi fra l'altro anche la Red Bull ha quasi doppiato la Mercedes in campionato nulla così giusto una nota storica nulla però può battere l'opera d'arte della Ferrari del 2002 perché la Ferrari del 2002 nel campionato costruttori ottenne esattamente tanti punti quanti quanti ne hanno ottenuti tutti gli altri team messi insieme andatevi a vedere la classifica del mondiale costruttore del 2002 sommati i punti di tutti gli avversari della Ferrari e noterete che il punteggio di tutti gli altri team è perfettamente sommati insieme è perfettamente uguale a quello della Ferrari quindi quella è proprio l'opera d'arte quella è un'opera d'arte indiscussa tutto questo tutto questo per dire una nota storica tutto questo per dire che Max Verstappen anche qui in Messico ma in generale quest'anno ha corso veramente contro degli scappati di casa Perez anzi non è scappato di casa perché in casa stavolta ci correva proprio ok c'è uno che si qualifica dietro ad un Alfa Tauri dietro ad un Alfa Tauri di un pilota che era stato licenziato alla fine dell'anno scorso che è stato mezzo anno senza correre che è tornato a correre per due gare poi si è fatto male è stato fuori tre mesi e poi è tornato a correre due gare fa e già gli sta davanti con l'Alfa Tauri uno così che si qualifica così dietro ad un Alfa Tauri e che in gara dopo dieci secondi è già fuori cioè io non mi meraviglio tanto che Max Verstappen abbia vinto sedici gare perché contro degli scappati di casa del genere ma non solo oggi parlo di Perez ma negli altri episodi ho parlato di quanto siano scappati di casa la Ferrari la Mercedes la Aston Martin la McLaren sono tutti degli scappati di casa io non mi meraviglio tanto che Verstappen abbia vinto sedici gare io mi meraviglio che ne abbia perse tre come hai fatto a perdere tre gare contro degli scappati di casa del genere come hai fatto a farti battere per due gare da Perez ma seriamente Perez ti ha battuto due volte quest'anno poi si ok ok la Jedda Verstappen aveva avuto quei problemi in qualifiche ed era partito dal fondo quindicesimo ok per quello in Azerbaigian Verstappen aveva ricevuto quella toccata da Russell nella sprint race che gli aveva danneggiato la macchina ok vabbè poi lì ha perso nella sprint race ma nella gara vera e propria è comunque stato battuto ok ok ma c'è veramente da meravigliarsi di come Max non le abbia vinte tutte contro degli avversari del genere poi di Perez ne parleremo più nel dettaglio quando andremo a parlare delle pagelle per il resto parliamo adesso della Ferrari come al solito facciamo il bilancio della Ferrari io non so cosa pensare io non so cosa pensare vedendo sempre la Ferrari così forte in qualifica e così scarsa in gara allora per essere così forte in qualifica la Ferrari ci sono un po' di possibilità allora o Leclerc è il miglior qualificatore della storia Leclerc sul giro secco è più forte di Senna più forte di Hamilton più forte di Schumacher più forte di Jim Clark abbiamo il miglior pilota di qualifica della storia della Formula 1 che riesce a mettere sistematicamente un bidone davanti alla Red Bull e poi in gara poverino in gara è chiaro che in un giro fai la differenza in 70 giri non ce la puoi fare a colmare l'inferiorità dell'automacchina però non lo so perché anche Sainz spesso e volentieri si qualifica a volte in pole e come in questo caso comunque secondo davanti a Verstappen senza nulla togliere a Sainz però cos'è anche Sainz adesso è uno dei migliori qualificatori della storia cioè abbiamo l'incredibile fortuna di avere in squadra in Ferrari nello stesso momento i due migliori piloti i due migliori qualificatori della storia della Formula 1 Leclerc e Sainz entrambi più forti di Senna più forti di Schumacher più forti di Hamilton più forti di Jim Clark sul giro singolo abbiamo quest'incredibile fortuna qui non lo so mi sembra alquanto improbabile o forse allora l'altra possibilità è che Max Verstappen stia giocando Max Verstappen si annoia e lo fa apposta a qualificarsi indietro per avere un po' di brivido almeno di fare un paio di sorpassi e giocarsi la vittoria non lo so un po' come questa ve la devo raccontare un po' come ho fatto io l'anno scorso in serie D coppa regionale di serie D di calcio a 5 così ero in pieno delirio di onnipotenza anche se eravamo una squadra che non è che andava tanto bene ma quel giorno ero in delirio di onnipotenza stavo perdendo di tre gol ok va bene ma quel giorno ero in delirio di onnipotenza cosa mi è venuto in mente di fare mi è venuto in mente di causare apposta un rigore per pararlo così so che non sembra è una cosa che non ha assolutamente senso ma per come ragionavo io in quel momento aveva perfettamente senso io sono Dio adesso causo un rigore apposta e lo paro così così perché ho voglia perché ho voglia di esibire le mie capacità caso ho voluto che il rigore adesso ve lo faccio vedere il rigore l'ho addirittura bloccato è certo perché in quel momento ero in modalità Dio e poi cosa che non avevo calcolato stavano prendendo di tre gol e poi alla fine negli ultimi 15 minuti l'abbiamo recuperata e abbiamo pareggiato così a caso adesso vi faccio vedere il rigore che ho parato ecco no tutto questo per dire magari Verstappen è entrato in delirio di onnipotenza e magari dice ok mi qualifico apposta dietro le Ferrari così mi diverto a superarli in gara non lo so non regge neanche tanto questa cosa qui no Verstappen stesso poco tempo fa insomma aveva dichiarato su precisa domanda proprio che gli avevano chiesto ma non ti annoia essere sempre primo Verstappen ha detto no no io mi diverto a stare sempre primo anzi fosse per me io vorrei essere sempre primo in tutte le gare non mi pesa il fatto di non lottare contro gli avversari quindi non è uno di quei piloti pensa mi sono abbastanza sorpreso quando ho letto queste sue dichiarazioni però Verstappen non è un pilota che ama fare corpo a corpo lui a lui gli piace dominare lo ha dichiarato lui stesso quindi anche questa ipotesi è scartata quindi non è vero che Verstappen si qualifica apposta dietro le Ferrari per divertirsi a superarli in gara questo non è vero quindi è scartata anche questa ipotesi e cosa rimane? che ipotesi rimane? rimane l'ipotesi che la Ferrari faccia apposta un assetto da qualifica perché si è resa conto che ha una macchina di merda si è resa conto che non ha nessuna possibilità di vincere e allora dà il contentino ai suoi piloti e ai tifosi facendogli almeno tenere qualche pole position ogni tanto facendoli correre con un assetto da qualifica che sul giro singolo va forte ma poi in gara usola le gomme molto più degli altri guarda caso questo è proprio il problema della Ferrari ma guarda un po' che coincidenza e io penso che la verità come al solito sta nel mezzo però mi viene da pensare che veramente potrebbero fare questo scherzettino qui i ragazzi della Ferrari di fare apposta un setup non estremo da qualifica per i suoi piloti ma un setup comunque che diciamo non è al 50% fra qualifica e gara ma è spostato un po' più verso l'efficacia sul giro singolo che sulla distanza di gara mettiamola così avrebbe senso avrebbe senso una stagione in cui la Ferrari non otterrebbe mai una soddisfazione in nessun caso possibile immaginabile almeno il team dà ai suoi piloti il contentino di fare qualche pole position ogni tanto pur sapendo benissimo che in gara le speranze di vittoria sono pari a zero questa è l'unica cosa onestamente che mi viene da pensare supportato dal fatto che guarda caso il problema della Ferrari è proprio uno dei problemi della Ferrari il più grande è proprio quello della gestione delle gomme sulla distanza di gara ma guarda un po' che è strano coincidenze che forse dovrebbero iniziare un po' a far riflettere proprio per quanto riguarda poi la strategia l'usura delle gomme e tutto quanto c'è stato un po' questo dibattito insomma che la Ferrari avrebbe sbagliato la scelta delle gomme con cui ripartire dopo la neutralizzazione causata dall'incidente di Kevin Magnussen beh le gomme hard le ha scelte anche Max Verstappen cioè lui le ha scelte per forza perché non aveva gomme medie nuove quindi non è stata una scelta volontaria ma una scelta dettata dalla necessità e Max Verstappen con le gomme hard ha vinto staccando Hamilton di quasi 14 secondi quindi le gomme hard non è che facevano così schifo perché Verstappen ha dominato con le gomme hard cioè quindi forse ma forse il problema non sono le gomme hard il problema è la macchina è la Ferrari perché se fai una macchina buona come la Red Bull vinci anche con le hard cioè io vorrei specificare questa cosa qui non mi piace poi tanto per cambiare la mentalità con cui sono state fatte le dichiarazioni post gara da parte dello staff Ferrari mi ha colpito in particolar modo e negativo quando Vasseur mi sembra ha detto le gomme hard non hanno funzionato cioè le gomme hard non puoi dire che le gomme hard non hanno funzionato quando Verstappen con quelle gomme hard ci ha vinto la gara dominandola forse a non funzionare è stata la macchina perché la mentalità della Ferrari è sempre quella di dare la colpa a cause esterne è sempre colpa degli altri la macchina fa schifo eh ma le gomme non hanno funzionato colpa delle gomme no è la macchina che fa schifo e che non ha fatto funzionare a dovere quelle gomme hard perché si è visto le gomme hard con una macchina buona come la Red Bull come hanno funzionato ma finché daranno sempre la colpa ad altro alle gomme che non funzionano cioè la Ferrari adesso dice ah beh qui le gomme non funzionano la Pirelli ci ha dato delle gomme che non hanno funzionato è per questo che non abbiamo vinto se la Pirelli si degnerà di darci delle gomme che funzionano ecco che vinceremo perché noi siamo i migliori abbiamo la macchina che non ha precedenti termini di velocità e quindi noi siamo intoccabili e no è la macchina che non fa funzionare le gomme siete voi che dovete migliorare la macchina per farla funzionare con le gomme hard piuttosto che con le medie piuttosto che con le soft piuttosto che con qualsiasi gomma ma questo loro non lo capiscono non lo vogliono capire perché ufficialmente non è mai stata smentita questa cosa qui ufficialmente questa Ferrari non ha precedenti in termini di velocità quindi una macchina che non ha precedenti in termini di velocità non può perdere se perde è sempre per colpa di fattori esterni ma è ovvio ma è ovvio è ovvio loro non hanno sbagliato loro hanno fatto la macchina migliore della storia se non hanno vinto il titolo quest'anno è solo per una serie incredibile di sfortune di circostanze sfavorevoli di complotti di Pirelli che gli dà le gomme che non vanno piloti che si schiantano e causano le bandiere rosse proprio quando la Ferrari era lì per vincere fornitori che forniscono alla Ferrari dei componenti difettosi loro sono intoccabili loro hanno fatto un lavoro perfetto anche stavolta sicuramente sono le gomme mannaggia la Pirelli che ha dato alla Ferrari un set di gomme hard difettose mannaggia o sta Pirelli birichini che birichini che siete Pirelli mamma mia che mentalità di merda proprio io mi vergogno di essere italiano che poi vabbè vassero ai francesi forse anche i francesi hanno sta mentalità qui non lo so ma io veramente mi vergogno quando leggo queste dichiarazioni è sempre colpa di altre cose stavolta sono le gomme che non funzionano stavolta è questo stavolta è quest'altro ma non siete mai voi non siete mai voi a non aver dato ai vostri piloti una macchina decente veramente no comment a onor del vero a onor del vero la Ferrari nel complesso ha comunque fatto un weekend positivo a onor del vero certo negativo fortemente negativo perché questa macchina qui non doveva avere precedenti in termini di velocità e quindi questa gara qui la Ferrari la doveva dominare la doveva dominare questa gara qui la Ferrari e non l'ho detto io che questa macchina non avrebbe avuto precedenti in termini di velocità non l'ho detto io però dimentichiamoci per un attimo che questa qui doveva essere la Ferrari migliore di sempre la monoposto di Formula 1 migliore di sempre dimentichiamoci di questa roba qui e analizziamo il weekend di gara proprio per come è stato senza farci influenzare dalle dichiarazioni fatte da gente evidentemente ubriaca nel precampionato e la Ferrari comunque allora ha fatto prima fila in griglia ok assetto da qualifica o non assetto da qualifica va bene però ha fatto comunque prima fila in griglia e in gara comunque al di là di tutto non è crollata non è crollata e comunque senza la bandiera rossa Leclerc e Sainz sarebbero quasi certamente finiti in seconda terza posizione perché Lewis Hamilton senza la bandiera rossa si trova in una situazione in cui aveva gomme molto più consumate rispetto ai due ferraristi e non avrebbe mai poi mai potuto attaccare la seconda posizione di Leclerc e sarebbe stato probabilmente sarebbe finito anche dietro a Carlos Sainz perché lo spagnolo appunto aveva gomme messe molto meglio quindi se vogliamo è stata sfortunata per davvero stavolta la Ferrari perché quella bandiera rossa è arrivata in un momento nel momento peggiore possibile diciamo così per Leclerc e Sainz la bandiera rossa ha rimesso in gioco Hamilton ha rimesso in gioco Hamilton e gli ha consentito di passare le Ferrari però vediamola anche dall'altro lato la bandiera rossa ha anche rimesso in gioco le Ferrari contro Verstappen perché ha annullato il gap quindi Verstappen parte con le hard le Ferrari partono con le hard distacchi azzerati ce la si gioca alla pari e giocandosela alla pari la Ferrari si è presa 23 secondi da Verstappen con Leclerc e 27 con Sainz nonostante la bandiera rossa avesse messo tutti sullo stesso piano cioè quindi è un'occasione era un'occasione questa che non hanno sfruttato se vogliamo vederla sotto questo aspetto a parità di gomma anche perché pure Verstappen ha scelto le gomme hard però al di là di questo al di là di questa occasione di vittoria mancata senza bandiera rossa i due ferraristi avrebbero concluso la gara in seconda e terza posizione che non sarebbe stato un completo disastro certo sarebbe stato un disastro perché questa macchina doveva essere la migliore della storia dovevano dominare ok dovevano dare due giri a tutti ok ma in sé per sé un secondo e terzo posto non sarebbe stato un risultato da sputarci sopra poi ok bisogna ringraziare l'errore di Norris in qualifica perché Norris ha mostrato un passo eccezionale e se Norris fosse partito da dove doveva partire probabilmente secondo ci finiva Lando e quindi comunque i due ferraristi sarebbero finiti in terza e quarta posizione dietro a Norris anziché dietro a Hamilton ok però nel complesso questo weekend di gara della Ferrari può essere definito quasi positivo e dopo a parte Singapore io non mi ricordo un altro weekend di gara globalmente così positivo da parte della Ferrari perché in fin dei conti la macchina non faceva vomitare così tanto come al solito i piloti di errori non ne hanno fatti il team di errori non ne ha commessi ha fatto dei pit stop buoni la strategia dicono tutti che l'hanno sbagliata ma è la stessa che ha fatto Verstappen e Verstappen ha vinto quindi non è sbagliata la strategia è sbagliata la macchina quindi la strategia se vogliamo per una volta io per una volta dico che la strategia non era sbagliata i piloti sono stati bravi soprattutto Sainz che ha tenuto dietro Russell nella fase di gara dopo la ripartenza in cui Russell aveva un grosso vantaggio di gomma con le medie contro le hard e Carlos l'ha tenuto dietro abbiamo limitato i danni rispetto alla Mercedes il problema qual è? il problema è che la Ferrari nei costruttori è dietro alla Mercedes e se la matematica non è un'opinione se tu sei dietro e vuoi raggiungere quello che è davanti devi fare più punti di quello che è davanti per raggiungerlo e quindi questa è comunque sia un'occasione mancata perché se mi parti primo o secondo e non mi guadagni i punti sulla Mercedes sulla Mercedes che ha un Russell che è il peggior Russell che io abbia mai visto insomma c'è qualcosa comunque che non va e ormai le gare sono solamente tre e i punti sono sempre gli stessi quindi ci si aspetta prima o poi un guizzo da parte delle Ferrari e niente parlato della Ferrari adesso parliamo delle pagelle molto velocemente Verstappen praticamente quasi perfetto perché non ha fatto la pole quindi il 10 non se lo prende lui Leclerc Leclerc bravo ok però non lo so ci ha provato a difendersi da Hamilton no comunque Hamilton poi l'ha staccato di 10 secondi non era francamente non si poteva pretendere da Leclerc che tenesse dietro Hamilton insomma comunque ha fatto un weekend di gara ampiamente positivo Leclerc ma anche Sainz oggi darei lo stesso voto di Leclerc un bel 8 anche per Carlos perché ok è finito dietro ok si è qualificato dietro ok Carlos andava più piano di Leclerc anche nella parte iniziale di gara quando Leclerc aveva la la rotta e andava più forte di Sainz ok ok però Sainz è stato veramente bravo a tenersi dietro Russell come ho già detto prima nella fase di gara in cui Russell aveva una netta superiorità di gomma in cui 3-4 giri in cui le gomme di Russell erano nettamente superiori a quelle di Sainz e Sainz è stato bravissimo a tenere dietro l'inglese che poi evidentemente ha perso la sua superiorità di gomma e è stato poi passato anche da Lando Norris e questi punti qui che Sainz ha diciamo così tolto a Russell e alla Mercedes potrebbero magari risultare decisivi nella classifica finale del campionato costruttori Norris ha fatto una gara strepitosa ma ha troppi errori un brutto errore in qualifica una pessima ripartenza dopo la bandiera rossa dove ha perso tipo 5-6 posizioni poi è stato bravissimo a recuperarle tutto quanto ha fatto una bella gara ok però è arrivato quinto quando senza errori poteva tranquillamente finire secondo senza errori in qualifica senza errori nella ripartenza dopo la bandiera rossa quindi bravo ma non ti posso dare un voto poi tanto alto perché comunque hai sprecato l'occasione di finire un'altra volta secondo in gara Russell male male molto male se non fosse che ci sono piloti come Perez e Stroh che sono messi cento volte peggio di lui si parlerebbe veramente di crisi quest'anno per Russell invece il fatto che appunto Stroh e Perez siano messi cento volte peggio fa passare un po' in secondo piano la stagione di Russell che è stata nettamente al di sotto delle attese come dico sempre non cambia il mio giudizio nei confronti di George secondo me è comunque un grandissimo pilota e tutto quanto ma questa stagione è fortemente negativa quest'anno anche in questa gara qui è stato un ameboide incredibile come non si è riuscito a passare Sainz incredibile come si sia fatto passare da Norris che partiva a 36esimo incredibile come sia stato addirittura attaccato da Ricciardo sull'Alfa Tauri ma George George ma cosa fai? ti fai attaccare da un Alfa Tauri guidata da un pilota che torna dopo che era stato fermo per un mezzo anno che si era infortunato ai polsi che era ancora a zero punti in campionato ti fai attaccare così scusi ma poi fortuna che non è stato passare almeno ha tenuto la posizione ma io inizierei a cercare di darmi una sveglia perché inizia a essere abbastanza cioè se la Mercedes finirà dietro alla Ferrari nel campionato costruttori sarà al 100% colpa di Russell 100% poi Ricciardo fenomenale una delle sue gare migliori in carriera contando la macchina che guidava con un'Alfa Tauri si è qualificato davanti a Perez che è una Red Bull e già solo questo 10% solo questo basta basta per dargli un 10% ma poi in gara è stato fenomenale è rimasto quarto per tutta la prima parte di gara tenendo anche un ottimo ritmo un ottimo passo e poi si è finito settimo è stato solo per colpa della bandiera rossa che l'ha un po' sfavorito secondo me senza la bandiera rossa Ricciardo sarebbe probabilmente finito quarto magari passato forse da Norris che stava rinvenendo ok ma secondo me finiva forse quinto forse la bandiera rossa cioè non è che è arrivato settimo grazie alla bandiera rossa no è arrivato settimo nonostante la bandiera rossa se no poteva fare addirittura meglio una gara strepitosa da parte di Daniel Ricciardo occhio però con i giudizi affrettati su di lui perché io dissi la stessa cosa dopo la vittoria di Monza nel 2021 con la McLaren io dissi Ricciardo è in un periodo di crisi nel 2021 ok ha vinto una gara ok bravissimo però è una gara buona che ha fatto in mezzo a una stagione veramente pessima una rondine non fa primavera non è detto che adesso d'ora in poi Ricciardo andrà forte e infatti poi per il resto del 2021 Ricciardo e purtroppo dopo Monza purtroppo è tornato sui livelli brutti pessimi di tutto il resto della stagione quindi Ricciardo strepitoso fenomenale tutto quanto però occhio occhio non è detto cioè una sola gara per quanto buona non va a decretare la rinascita completa e totale di Daniel Ricciardo quindi aspettiamo queste altre tre gare per vedere se Ricciardo effettivamente è tornato Daniel Ricciardo quello vero oppure no però intanto questi sono segnali molto molto incoraggianti intanto ha dimostrato a tutto il mondo e a se stesso di essere ancora un pilota di Formula 1 di essere ancora tremendamente veloce e di non aver perso il suo talento poi bisogna vedere se la costanza di rendimento se ce l'avrà oppure no Piastri gara opaca molto opaca alla fine ha portato a casa un ottavo posto ma è stato umiliato da Norris per tutto il weekend alla faccia di chi fino a due gare fa diceva ormai Norris è in crisi ormai Piastri lo ha superato come rendimento questo e quest'altro guardatevi la classifica Norris 169 punti Piastri 87 il doppio praticamente giusto per dire poi punti anche per Albon e Ocon Albon ormai non è quasi neanche più una sorpresa vederlo a punti ha sprecato forse un po' la chance in qualifica perché la Williams che andava veramente forte con il track l'indice che si è beccato poi però in gara è venuto su è arrivato nono o comunque due punti molto importanti per la Williams che sale a quota 28 e mantiene un margine ancora di relativa tranquillità nei confronti della cosa dell'Alfa Tauri Ocon un punticino Alpine come al solito anonima io mi dimentico sempre che esiste l'Alpine perché sono stanno facendo una stagione che più anonima di così non si può Gasly subito dietro a Ocon fuori dai punti Tsunoda Tsunoda non è stata colpa sua chiaramente la qualifica perché è stato penalizzato in griglia per il cambio della Power Unit quindi non è colpa sua se partiva dalle ultime posizioni però la bandiera rossa lo ha messo nella situazione di trovarsi a lottare per le posizioni di vertice la bandiera rossa l'ha rimesso in ottava posizione quindi la bandiera rossa ha praticamente annullato la sfortuna della penalità e Tsunoda a questa bandiera rossa questa opportunità non l'ha sfruttata perché è nato a sterzare completamente addosso a Piastri e secondo lui ha anche ragione lui pensa che sia colpa di Piastri nonostante è evidente Piastri era ancora dritto così Piastri è entrato in curva e Tsunoda come se Piastri non ci fosse gli ha tagliato proprio la strada così e quando Piastri non aveva iniziato a sterzare e Piastri non è che è arrivato lungo Piastri la curva l'ha fatta perfettamente se fosse che Piastri è arrivato lungo 20 metri o Piastri sei arrivato lungo mi hai trascinato anche a me no Piastri la curva l'ha fatta perfettamente e Tsunoda che gli ha sterzato contro quindi non solo ha fatto una cappella gigantesca buttando via una marea di punti ma pensa anche di avere ragione cioè questo io non capisco perché gli abbiano rinnovato il contratto a uno così a uno che ha proprio zero autocritica a uno che si fa battere da chiunque salga su quella macchina lì sull'altra l'Alfa Tauri gli sta sistematicamente davanti l'Oson è salito sull'Alfa Tauri così all'improvviso gli è stato davanti sin da subito Ricciardo è salito sull'Alfa Tauri per la prima volta ha sbattuto Lini in Ungheria gli è stato davanti sin da subito e adesso di nuovo torna dopo l'infortunio cosa fa gli sta davanti sin da subito ottiene delle prestazioni Ricciardo che Tsunoda non ha mai sfiorato in tutta la sua carriera ok nel 2021 ottenne un quarto posto ok ma nel 2021 l'Alfa Tauri era molto più competitiva di adesso insomma cioè vedendo Tsunoda sembra che l'Alfa Tauri quest'anno abbia fatto una macchina schifosa invece no invece Tsunoda che sta facendo che ha fatto per tutto l'anno sembrare l'Alfa Tauri ancora più schifosa di quanto non fosse in realtà perché Ricciardo adesso che sta entrato un po' a regime Ricciardo lo vedete che prestazioni che fa Ricciardo lo vedete quanto vale in realtà l'Alfa Tauri e Tsunoda non è in grado di sfruttare c'è anche stavolta fuori dai punti ok che l'Alfa Tauri ok che ha un no anzi ok l'Alfa Tauri ha raggiunto l'Alfa ok ma questa Alfa Tauri qui potrebbe anche raggiungere la Williams nel campionato costruttori Tsunoda permettendo vabbè la Williams ok e anche la Williams ha l'handicap di avere anche la Williams un pilota solo ok però Tsunoda ormai è al terzo anno di Formula 1 non ha dimostrato uno stracacchio di niente in tre anni sbaglia in continuazione e dà sempre la colpa agli altri anche quando sbaglia lui ma è stato rinnovato è stato rinnovato l'Oson a casa l'Oson non ti vogliamo preferiamo Tsunoda va bene solo perché ha spalato il fango durante l'alluvione lì a a Imola è amato da tutti è amato dai tifosi il fango lo so spalare anche io il fango se mi facevo il video mentre spalavo il fango mi davano un posto in Alfa Tauri anche a me vabbè lasciamo stare gli altri penso che non c'è bisogno di dare dei giudizi in particolare relativamente agli altri piloti passiamo adesso a Perez scusate Perez 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 0 è chiaro ti qualifichi dietro a una stracacchio di Alfa Tauri dopo 10 secondi sei già fuori gara 0 cosa poteva andare peggio di così però se io le altre volte gli davo dei voti bassissimi anche tanti 0 gli li davo con rabbia con scherno con frustrazione adesso questo 0 qui glielo do con rispetto perché glielo do con rispetto perché ci ha provato Perez ha provato a fare una cosa bellissima Alvia partiva quinto ha provato a guadagnare quattro posizioni Alvia ha provato a passare da quinto a primo Alvia in una curva davanti al suo pubblico di casa questo merita rispetto ci ha provato le altre volte in tutte in tutte le altre gare del campionato da dopo Miami da Monaco in poi praticamente Perez era lì che sembrava uno zombie sembrava non so sembrava una macchina col piloto automatico sembrava che lì dentro non ci fosse nessuno io mi ricordo solo errori di Perez non mi ricordo sorpassi non mi ricordo solo errori da parte sua non ha mai provato uno stracacchio di niente in tutta la stagione è finito sempre merdesimo senza mai provare a fare niente senza mai provare minimamente a ribaltare la situazione stavolta per una volta ci ha provato ha fallito miseramente ok ma ci ha provato è cento volte meglio fallire così provando a fare una cosa bellissima piuttosto che fallire senza neanche provarci quindi lo zero non glielo toglie nessuno perché comunque ripeto peggio di così non poteva fare però almeno uno zero con rispetto cosa cambia fra uno zero dato con rispetto e uno zero dato con scherno niente perché uno zero è sempre uno zero cambia che c'è il rispetto il rispetto insomma per alcuni il rispetto non vale niente per altri il rispetto vale molto vale anche più del voto poi team allora della Red Bull non vale neanche la pena commentare la Ferrari la Ferrari io per quanto riguarda la competitività della macchina non gli posso dare un'insufficienza alla Ferrari perché comunque globalmente è stata la seconda miglior macchina dietro la Red Bull perché comunque le Ferrari sarebbero finite davanti alle Mercedes davanti anche a Hamilton senza la bandiera rossa forse la McLaren era superiore ma solo quella di Norris perché Piastri sembrava sembrava Stroll e quindi se sei la seconda miglior macchina non è che ti do 4 cioè comunque la macchina era ok insomma quindi per una volta la Ferrari si becca un voto più che sufficiente per quanto riguarda la competitività della macchina e un voto anche buono per quanto riguarda la gestione della strategia la gestione delle macchine e tutto quanto perché non ci sono stati problemi di nessun tipo durante il weekend di gara se non qualche problemi nella prima sessione di prove libere poi comunque risolti quindi sono stati bravi globalmente quindi stavolta niente da dire per quanto riguarda le performance della Ferrari sia come macchina che come team Mercedes in grande affanno soprattutto in qualifica in grande affanno anche un po' sul passo gara è arrivata la bandiera rossa che ha salvato la gara di Hamilton avrebbe salvato anche quella di Russell ma Russell quest'anno non c'è e quindi finisce dietro a coso a Sainz senza neanche riuscire a superarlo venendo addirittura attaccato da un Alfa Tauri ma lì è Russell che non è in forma non è la Mercedes che fa veramente così schifo per il resto scelta di mettere le gomme medie azzeccata perché le gomme medie evidentemente sulla Mercedes le gomme medie con Hamilton sono andate benissimo hanno azzeccato tutto quello che si poteva azzeccare non hanno avuto problemi particolari quindi hanno mantenuto il distacco nei confronti della Ferrari quindi questo è sicuramente un weekend di gara positivo per la Mercedes Michelaren molto bene sotto il profilo della competitività della macchina non hanno tenuto quello che avrebbero potuto ottenere perché Norris ha sbagliato le qualifiche e ha sbagliato la ripartenza dopo la bandiera rossa ma non è colpa del team chiaramente Aston Martin io veramente non capisco cosa stiamo facendo c'è anche stavolta l'unso ritirato per problema meccanico segnato qui non neanche hanno specificato il motivo nella Formula 1 moderna avere due ritiri di fila per problema tecnico è qualcosa di inconcepibile assolutamente inconcepibile ma poi forse sono state Aston Martin qui fra Austin e Messico ovvero da quando hanno portato la nuova macchina l'evoluzione il nuovo pacchetto di aggiornamenti Aston Martin è la peggior macchina in griglia per distacco perché se Alonso si qualifica tredicesimo Alonso si qualifica tredicesimo vuol dire che Aston Martin è la peggior macchina vuol dire che un pilota normale si qualifica ventiseiesimo su 22 macchine un pilota normale si qualifica ventiseiesimo se Alonso si qualifica tredicesimo infatti il pilota normale Pestroll è un po' meno che normale come pilota Pestroll è proprio desaparecido anche se poi in gara comunque è stato davanti ad Alonso forse Alonso aveva già le avvisaglie del problema tecnico che l'ha costretto al ritiro non si sa non lo so ma sono del mestiere questi qua fatemi capire sono gli stessi che inizio il campionato facevano un po' di ripetizione io non lo so ecco contro chi ha vinto il mondiale Verstappen contro degli scappati di casa del genere quindi è zero doppio zero sia come competitività della macchina che come gestione strategica affidabilità e tutto quanto cosa gli vuoi dare Alastron Martin Alpine sì a quanto pare c'erano anche loro a correre non me ne sono accorto ma evidentemente c'erano anche loro e hanno ottenuto anche un punto sì va bene Williams bene la Williams aveva una gran macchina gran macchina qui in Messico pessimo Sargent pessimo Sargent che non è riuscito a fare neanche un tempo in qualifica questa era una grande occasione per Sargent per andare a punti per andare di nuovo punti non l'ha sfruttata Albon l'ha sfruttata un po' meglio ma la Williams come macchina qui era molto competitiva forse insieme magari all'Australia che anche in Australia andava fortissimo insieme all'Australia forse è la gara in cui la Williams andava più forte in assoluto in tutta questa stagione Alfa Tauri bene molto bene per quanto riguarda la competitività della macchina certo Ricciardo ci ha messo nel suo ma anche la macchina evidentemente non andava poi così male male però per quanto riguarda diciamo così l'affidabilità perché magari se Ricciardo si è qualificato quarto Zonoda poteva qualificarsi settimo ottavo e invece no perché l'hanno mandato in penalità e questo è un errore è una cosa che non dovevano fare se tu hai quattro motori non vedo perché ne dovresti utilizzare cinque o più se non ti bastano i motori che ti devono bastare per regolamento hai fatto un errore tu squadra quindi questo va a pesare molto sulla sulla valutazione per quanto riguarda la gestione della gara affidabilità e tutto quanto poi Alfa e Ass l'Alfa a quanto pare c'era anche lei non me ne sono minimamente accorto e l'Ass malissimo hanno portato sta super macchina nuova aggiornata e tutto quanto e rischia di ammazzare Magnussen cioè boh cioè Ass e Astor Martin hanno portato recentemente un'evoluzione molto profonda delle loro macchine Astor Martin due ritiri di fila per Alonso e macchina inguardabile e l'Ass ha cercato di uccidere Magnussen con un cedimento tecnico roba da anni 80 zero per quanto riguarda la gestione della macchina zero poi per quanto riguarda la competitività Hulkenberg ha fatto comunque una gara buona fino a non molti giri dalla fine era a punti però diciamo che cercare di uccidere un proprio pilota non è proprio una cosa che fa che fa bene alla valutazione in pagella ecco diciamo così molto bene quindi dire proprio che per questo video è tutto l'appuntamento è per il prossimo episodio che sarà relativo al GP del Brasile ormai facciamo una gara al giorno praticamente io non capisco qual è il senso di avere un campionato così pieno di gare quando si sa già da febbraio chi vince il titolo perché non ci sarebbe stato neanche bisogno di fare neanche la prima gara per assegnare il titolo a Verstappen e alla Red Bull e invece di diminuire il numero di gare lo vanno ad aumentare quindi non so veramente non mi spiego questa cosa qui dai ormai questo campionato 2023 ce lo siamo tolti dalle palle ormai dai resistiamo resistiamo altre tre gare un mese, un mese e mezzo resistiamo teniamo duro che poi abbiamo sta pausa invernale dove i primi a riposarci che non ne possiamo più siamo proprio noi fan della Formula 1 che io onestamente non ne posso più ed è la prima volta in vita mia che non ne posso più della Formula 1 cioè questo è tutto dire praticamente se ne ho le palle piene io non oso pensare a un tifoso normale quanto può verne le palle piene e niente per questo video è tutto l'appuntamento è per l'episodio del GP del Brasile dove andremo a commentare l'ennesimo dominio di Max Verstappen e andremo ancora una volta a parlare di quanto facciano schifo gli avversari contro cui Verstappen ha vinto il titolo andremo ancora una volta a parlare della Ferrari che fa palesemente un assetto da qualifica per cercare almeno di ottenere la pole position che poi crolla inesorabilmente in gara parleremo un'altra volta dell'Aston Martin che va sempre peggio parleremo un'altra volta di Perez che chissà che cosa si inventa tanto che sempre io lo potrei registrare già adesso l'episodio del GP del Brasile perché tanto so già quello che dirò so già quello che succederà lo potrei registrare già adesso l'episodio del GP del Brasile sicuro sicuro tanto perché voi non lo sapete cosa succederà in Brasile? lasciamo perdere e per questo video direi che è tutto che ho parlato anche abbastanza mamma mia che desolazione grazie a tutti grazie a tutti